Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda puntata, al secondo incontro del ciclo organizzato dall'Associazione Amici della Biblioteca Riostea e Tempo di Riletture. La volta precedente della conferenza era stata su un testo classico della storia della filosofia di Ernst Kassirer, Il saggio sull'uomo, un testo pubblicato allora quasi al termine della guerra, della seconda guerra mondiale e oggi ci troviamo di fronte di nuovo ad un altro testo che, grazie sempre alla diaspora tedesca negli Stati Uniti, diede la possibilità ad Orcai Medelladorno di scrivere, di pubblicare un altro testo fondamentale nella cultura poi post-bellica. Il titolo era La dialettica dell'illuminismo e fu pubblicata nel 1947. Allora abbiamo parlato nel primo incontro della scuola di Macburgo e quindi della scuola del neocriticismo kantiano. Ora ci troviamo invece di fronte ad affrontare un altro nodo fondamentale nella storia della filosofia e del pensiero critico ed è la scuola di Francoforte. Due personaggi che sono Orcaimer e Adorno, due rappresentanti di grande spicco della scuola che, per la loro appartenenza all'ebraismo, furono costretti ad emigrare per la persecuzione nazista. Il loro esodo, naturalmente, fu nelle prestigiose università americane che diedero la possibilità di esprimere appieno il loro pensiero e soprattutto di entrare in contatto con la cultura allora imperante di un neocapitalismo che si stava affermando su tutta l'economia del mondo occidentale. E loro seppero cogliere, proprio nella critica all'industria culturale, uno dei fenomeni più salienti, più significativi della nostra epoca nella seconda parte del XX secolo. A parlarne oggi il professor Andrea Gatti, che già molti conoscono perché per l'Associazione degli Amici della Biblioteca ha spesso dato il suo contributo fondamentale per cogliere aspetti, temi e problemi che sono stati oggetto delle nostre iniziative. Andrea Gatti è professore associato di estetica presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara e ha anche un insegnamento presso il Dipartimento di Architettura. È delegato del Rettore per le Prattiche di Sostegno dell'Orientamento in Entrata ed è un attivo editore, organizzatore di riviste, sia nel campo della storia della filosofia che dell'estetica. È direttore della rivista dei Castelli di Yale, il Quaderni di Filosofia, una rivista che da molti anni è l'espressione più sentita e più significativa di tutto quello che viene prodotto all'interno del gruppo dei filosofi del Dipartimento, ma è anche responsabile della rivista di studi estetici, della rivista della società italiana del XVIII secolo e anche editor in chief della rivista Open Access, dell'International Lexicon of Aesthetics, su cui ha anche pubblicato un paio di voci. L'attività scientifica di Andrea Gatti è ampia ed articolata e spazia principalmente da questioni di estetica nel Settecento britannico con monografie e traduzioni di autori come Shazbury, Mandeville, Hume, Acheson, Reed e Reynolds. Si occupa principalmente di problemi naturalmente legati alla questione dell'estetica, non solo nei riguardanti del Settecento, ma anche nell'età contemporanea, sui quali ha pubblicato davvero moltissimi saggi e volumi. Ricordo solo, a partire dal gentile Platone d'Europa, saggi su Shazbury e Tim Britannia Plato, e studi sull'estetica del platonismo inglese. Ha inoltre curato edizioni italiane del discorso sull'arte di Joshua Reynolds, dei moralisti di Lord Shazbury e le lezioni delle belle arti di Thomas Reed. Anche Ancpiespazio è stato dedicato sia all'estetica dei minori in ambito anglosassone, ma anche in ambito francese, seppure dedicato alla scrittura di manuali di storia dell'arte per la casa editrice Bruno Mondadori. A parlarne, appunto, Andrea sarà la persona estremamente adatta, sia perché il campo di cui vi ho adesso indicato essere il suo ambito di ricerca, ma anche per i suoi interessi sempre più spostati ultimamente, proprio sulla critica della cultura nell'età contemporanea. Ringrazio naturalmente il professor Gatti e gli do la parola. Grazie Paola, grazie per questa presentazione fin troppo dettagliata e lusinghiera. Grazie e tramite te ringrazio anche l'associazione Amici della Biblioteca di Ostea, che mi coinvolgono sempre nelle loro iniziative, come tu dicevi, alle quali partecipo sempre molto volentieri. E mi fa molto piacere partecipare a questo incontro, in particolare perché, come diceva la nostra collega amica Silvana Vecchio in presentazione di questo ciclo di incontri, questi incontri hanno lo scopo un po' di mantenere aperto uno spazio di pensiero anche in tempi complicati come i nostri. E lo fa attraverso la lettura di testi che sono non solo classici, naturalmente, della letteratura filosofica, ma del pensiero contemporaneo, e sono testi anche questo in particolare che ha contribuito a costruire una certa forma mentis contemporanea. Calmino diceva, no, perché leggere i classici? Diceva che un classico è un testo che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. E allora questo testo in particolare che leggiamo oggi, La dialettica dell'illuminismo, di Adorno e Orkheimer, credo che per la sua davvero straordinaria lucidità e capacità di analisi e di dissezione critica possa offrire spunti per una riflessione non solo sulle condizioni del nostro tempo, ma anche sulla parte e la responsabilità che noi come individui abbiamo sulle condizioni e l'assetto del nostro tempo. Per introdurre questo testo una premessa necessaria e inevitabile è descrivere un po' l'orizzonte di pensiero entro cui questo testo si è generato ed è l'orizzonte di pensiero della scuola di Francoforte. La scuola di Francoforte è il nome che si dà a un gruppo di studiosi che non si diedero questo nome, ma che è stato dato, diciamo, a posteriori, che si raccoglievano intorno all'Istituto per la ricerca sociale, Institut für Sozialforschung, fondato negli anni 20, nel 23, in particolare in Germania, nella Repubblica di Weimar, e che si costituì come una scuola di studi, di indirizzo filosofico, naturalmente, ma anche economico, giuridico, politico, e che univa il pensiero storicistico-dialettico di Hegel al pensiero marxista e alla psicanalisi di Freud. E il gruppo raccoglieva alcuni dei pensatori più eminenti del Novecento, oltre a Donner Keimer, anche gli economisti Friedrich Pollock e Grossman, il sociologo della letteratura Leo Lowenthal, lo psicologo Eric Fromm, e altri filosofi come Herbert Marcuse e Walter Benjamin. Il primo direttore dell'Istituto per la ricerca sociale, al quale poi si lega il nome Scuola di Francoforte, fu Karl Grünberg, che era un professore, un docente di legge e scienze politiche dell'Università di Vienna, ma a dare l'impulso che sappiamo alla Scuola di Francoforte e all'Istituto per la ricerca sociale, fu in realtà Max Horkheimer, che fu direttore dell'Istituto a partire dagli anni 30, dal 1930. Un istituto che, tra l'altro, nei suoi studi sulla società avanzata e sulla società capitalistica, in realtà non era vista di buon occhio, perché studiava la società contemporanea proprio per metterne in luce le contraddizioni. E tanto poco era vista di buon occhio che il giorno stesso in cui Hitler è stato nominato cancelliere del Reich, cioè il 30 gennaio 1933, quello stesso giorno la abitazione di Horkheimer e dell'economista Pollock venne occupata dalle squadre d'assalto e in marzo l'Istituto venne perquisito dalla polizia e chiuso, reò di aver svolto attività antistatali. E per chiudere, come dire, la vicenda, e ciò che determinò poi appunto la diaspora di cui tu stessa parlavi, in aprile l'Istituto viene, Horkheimer viene espulso dall'Università di Francoforte. E da qui questi studiosi, tedeschi ma di origine ebraica, cominciano a muoversi prima a Ginevra, poi tra Parigi e Londra, soprattutto Parigi, fino al 1934, quando Horkheimer sbarca negli Stati Uniti e lì l'Istituto per la ricerca sociale trova ospitalità presso la Columbia University. Proprio Adorno poi raggiunge Horkheimer e raggiunge l'Istituto per la ricerca sociale nel 1938 ed è proprio negli Stati Uniti, tra costa orientale e occidentale, che esce la prima edizione di quest'opera, nel 1954, una edizione ciclostilata che aveva per titolo Frammenti Filosofici, Filosofici Fragmente, ed era la prima versione di quella che poi sarebbe diventata l'opera definitiva dialetica dell'illuminismo che invece si stampa ad Amsterdam nel 1947 presso l'editore Cherido. Alla fine del conflitto, con calma, l'Istituto ritorna in Europa e dal 1950 riapre a Francoforte, raccogliendo altri studiosi di cui forse il più imminente di questa terza fase, diciamo così, della vita dell'Istituto è Jürgen Habermas. Allora, quali sono i nuclei tematici di cui si occupa la scuola di Francoforte e che hanno una ricaduta poi naturalmente e ovviamente all'interno dell'opera di Allan Adorno e Horkheimer? Beh, intanto un'analisi dei totalitarismi. I francofortesi negli anni 30 si trovarono di fronte a un evento assolutamente per loro sconvolgente, la nascita e lo sviluppo dei fascismi in Europa e quindi un terreno di indagine era proprio verificare se la nascita di questi regimi totalitari fosse una conseguenza del capitalismo se fossero fenomeni totalmente indipendenti. Su questo la scuola di Francoforte prese direzioni diverse. Conseguenza, come dire, come corollario a questo tema di indagine, il rapporto tra marxismo e psicanalisi, vale a dire che i francofortesi cercarono di stabilire possibili rapporti tra psicanalisi e teoria critica della società con l'obiettivo di studiare i meccanismi psicosociali. I francofortesi videro le masse prone e adoranti di uomini di potere e di dittatori e di studiare anche le origini della violenza. Il presupposto su cui si fondava era che il materialismo storico avesse delle lacune e che la psicanalisi di Freud potesse in qualche modo riempire. Infine, il terzo nucleo e quello che ci interessa di più è la critica della cultura di massa, perché proprio la critica della cultura di massa costituisce uno dei capitoli fondamentali di questo testo, quello su cui poi ci fermeremo oggi, ed è quello dedicato all'industria culturale. Questo testo è diviso in cinque capitoli. Nel primo, il concetto di illuminismo, viene esposto alla tesi principale e viene spiegato cosa si intende per illuminismo. Un concetto che viene poi spiegato attraverso due excursus, excursus primo e secondo negli altri due capitoli, un quarto capitolo dedicato all'industria culturale e un quinto agli elementi dell'antisemitismo, vale a dire dove si mostra come il razionalismo in qualche modo tenda all'autodistruzione. E' un testo che ebbe una lunga gestazione, perché nel 1942 sappiamo che era già stato composto il primo capitolo, quello sul concetto dell'illuminismo, il primo excursus su Odisseo, che mostra come l'illuminismo possa poi anche trasformarsi in ideologia, e parte del capitolo sull'industria culturale, questo già nel 1942. Nel 1943 viene poi aggiunto il quinto capitolo, quello sull'elemente dell'antisemitismo. Nel 1944 poi appunto uscì la versione ciclostilata di cui abbiamo parlato prima. Allora, questo testo, va detto, non è un testo facile, anzi è un testo piuttosto complesso, volutamente complesso, visto che una delle accuse che Adorno e Ockheimer rivolgevano alla cultura contemporanea era quella di un eccessivo appiattimento e semplificazione. Ed è una scrittura complessa perché vuole intenzionalmente riflettere la complessità della realtà che descrive. Per cui è un dettato che è paratattico e non sintattico, è frammentario, filosofici fragmente, era la prima, come dire, stesura del testo, perché è frammentaria la realtà, è incoerente, è una serie per Adorno e Ockheimer di disietta membra che, come dire, sembrano non comporsi in un quadro organico e soprattutto in un quadro di cui sia possibile ricavare un senso. ed è una scrittura molto affascinante perché riflette con estremo disincanto e realismo il senso della crisi e della lacerazione che è il senso della crisi e della lacerazione che anche noi contemporanei in qualche modo possiamo provare. Si dice spesso non mi riconosco nel mio tempo, non mi riconosco nella realtà in cui vivo. Ed è quindi una realtà, quella descritta da Adorno e Ockheimer, disarmonica rispetto all'individuo. e tra l'altro questa struttura frammentaria poi ritorna anche in un altro capolavoro di Adorno del 1951, I Minima Moraglia, 153 frammenti o aforismi alla maniera niciana, in cui anche lì viene descritta una realtà che offende la vita, perché il sottotitolo dei Minima Moraglia è Meditazione sulla vita offesa, Beshedichten Leben. Ed è una vita che è minacciata, condizionata, standardizzata, catalogata, votata a una produttività e a un pragmatismo disumani ed è esposta soprattutto ai condizionamenti dei vari poteri politici, religiosi, ma soprattutto, e questa è la novità che introducono Adorno e Ockheimer, economici. Quindi, come dire, è una struttura davvero minimalista, disarticolata ed è un libro, non facile, come dicevo, che venne pubblicato in Italia in prima edizione italiana nel 1966 presso Inaudi, nella Biblioteca di Cultura Filosofica, nella traduzione di Lionello Vinci, che era lo pseudonimo di Renato Solmi, storico traduttore di queste e di altre opere. Con un errore di traduzione, prima tu accennavi alla nostra rivista I Castelli di Iel, la nostra rivista I Castelli di Iel prende l'origine da un errore di traduzione che si è perpetuato dalla prima edizione del 1966 fino al 1997, di cui, casomai, parleremo se ci sarà occasione. Allora, il problema è perché questo testo, cioè, quale problema affronta questo testo e come lo affronta in maniera così efficace da potersi considerare questo testo davvero un punto di svolta nella riflessione filosofica del Novecento e per rispondere, come dire, basta fare una semplice considerazione che magari tutti ci saremmo trovati a fare, però davvero quello che viene da chiedersi è perché data, come dire, l'ampiezza di conoscenze di cui disponiamo, i mezzi tecnici a nostra disposizione, la scienza che padroneggiamo, in teoria questo mondo potrebbe essere un posto meraviglioso, perfettamente organizzato, rispondente ai bisogni individuali e collettivi, rispettoso delle risorse le quali potrebbero essere ripartite equamente in modo da garantire, come dicono i pragmatisti, e lo dicevano già anche autori settecenteschi, la maggior felicità per il maggior numero di persone. E invece tutte le conoscenze, tutta la scienza, tutti i mezzi tecnici non sembrano affatto proteggere l'umanità, come testimoniano Adorno e Orkheimer, i quali videro mezzi sempre più raffinati, diciamo così, e avanzati per, come dire, condurre guerre, operare sperequazioni, distruzioni sistematiche, sconvolgimento degli assetti naturali, il mondo che hanno visto Adorno e Orkheimer, ma anche in parte, diciamo, quello di cui noi siamo testimoni, può tranquillamente trasformarsi in uno spettacolo di barbarie, anche se ci troviamo all'interno di una società ipertecnologica che ha conoscenze sempre più perfezionate e soprattutto una società che è perfettamente consapevole delle istanze morali che dovrebbero governare tutte le azioni che si intraprendono, diciamo, su piccola e su larga scala ed è anche perfettamente consapevole delle conseguenze di certi atti cui pure si dà sconsideratamente corso. Sappiamo tutto, dicono Adorno e Orkheimer, eppure quel patrimonio di conoscenze non ha trasformato il mondo in una nuova Arcadia o in un nuovo Eden e neppure cancellano appunto quel sentimento della vita offesa di cui parlavano Adorno e Orkheimer. Allora i due autori partono proprio da questo e ci espongono subito quando si comincia a leggere il libro immediatamente in maniera anche un po' brutale subito veniamo esposti alla tempesta del dubbio che forse la convinzione dei pensatori moderni che la scienza il sapere oggettivo le conoscenze tecniche siano premessa e condizione di un percorso di progresso e di emancipazione anche dai nostri limiti esistenziali bene quella fiducia in quel tipo di ragione forse è eccessivamente ottimistica e l'illuminismo ossia il mito del progresso da perseguirsi su basi razionali forse ha limiti strutturali che ne determinano la fallacia allora l'analisi da cui partono Adorno e Orkheimer è proprio questa ed è molto affascinante cercano di spiegare quel salto di ragione vale a dire i motivi per cui la ragione non mantiene le proprie promesse di felicità quindi come dire i lettori della dialettica dell'illuminismo sono subito costretti a mettere in dubbio che la nostra idea di ragione quindi vada riconsiderata così come la nostra fiducia nella sua infallibilità quello che dicono Adorno e Orkheimer che pure seguono il metodo dialettico hegeliano in qualche modo come strumento di interpretazione della realtà forse il reale non è razionale e forse il razionale non è sempre coincidente ma talvolta in opposizione al reale che è uno dei punti di partenza della formulazione della dialettica negativa e della particolare accettazione di dialettica cui si riferisce il titolo di questo libro perché in Hegel c'è una sintesi che ricompone da un senso ai momenti contraddittori della tesi dell'antitesi per Adorno e Orkheimer no ci sono solo contraddizioni per le quali non è possibile trovare nessuna sintesi che giustifichi la loro esistenza e la loro resistenza in quel modo quindi in qualche modo che ne giustifichi il senso e tra l'altro sul tema della ragione Orkheimer aveva già tenuto delle lezioni presso la Columbia University nel 1944 che sono poi confluite in uno dei suoi testi più famosi che è Eclisse della ragione del 1947 la stessa data della dialettica dell'illuminismo in cui distingueva tra una ragione oggettiva e una ragione soggettiva la ragione oggettiva è quella la ragione classica di Platone Aristotele una ragione che tiene conto della realtà nel perseguimento dei suoi fini la ragione soggettiva invece è la ragione del positivismo in qualche modo quella ragione che non tiene conto del reale e lo piega alla realizzazione dei propri scopi una ragione quindi che non bada alla razionalità dei fini ma semplicemente è concentrata sui mezzi per perseguire quei fini e come dire la ragione oggettiva è quella che si interroga sull'opportunità ad esempio delle manipolazioni genetiche la ragione soggettiva invece è quella che ricerca solo gli strumenti per procedere su quella strada senza interrogarsi sul senso sui valori e così via ed è la ragione diciamo così la ragione occidentale dall'età moderna oggi la ragione di Bacone scienzia propter potenziam la conoscenza della natura per poter piegare le sue energie e le sue forze al nostro dominio è la ragione della rivoluzione scientifica il cogito cortesiano la ragione dei positivisti dei neopositivisti dei pragmatisti e così via quindi la ragione occidentale come siamo abituati ad intenderla ed è proprio questa ragione quindi soggettiva questa ragione come strumento in qualche modo che è al centro della teoria critica della dialettica dell'illuminismo opera che inizia ha un inizio memorabile più spesso riportato su tutte le storie della letteratura già indicando una chiave di lettura dell'analisi che svolgeranno poi nel corso del testo l'incipit quindi la prima proposizione del primo capitolo il concetto di illuminismo della dialettica dell'illuminismo recita l'illuminismo nel senso più ampio di pensiero in continuo progresso perché l'illuminismo apro un inciso l'illuminismo di cui parlano Adorno al Keimer non è l'illuminismo come corrente di pensiero che più o meno si è sviluppata dal 1650 al 1800 l'illuminismo per Adorno al Keimer è quella categoria storico ideale tipica dell'occidente del pensiero borghese moderno che è fondata sull'idea che le conoscenze tecniche da un lato possano liberarci dalla paura e dall'altro consentirci un dominio sulla natura scienza propter potenzia appunto quindi l'illuminismo in Adorno al Keimer è questo l'illuminismo nel suo senso più ampio di pensiero in continuo progresso ha perseguito da sempre l'obiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni ma la terra interamente illuminata splende all'insegna di trionfale sventura quindi come dire questo ha portato l'illuminismo non come dire a un continuo progresso ma ha illuminato la terra della sventura di cui Adorno e al Keimer in particolare erano testimoni ma in parte diciamo così con tutte le mutazioni del caso siamo testimoni noi stessi allora Adorno e al Keimer ci dicono che la ragione illuministica ha compiuto un'inversione ha rovesciato se stessa e come dire assistiamo in termini storici attraverso anche la lettura di quest'opera al contrario di quello che il progresso illuministico si prefiggeva di realizzare il pensiero in continuo progresso dicono Adorno e al Keimer in realtà ha reso possibile la carneficina delle due guerre mondiali la creazione di una bomba atomica i gas chimici a Auschwitz le mitragliattrici e i cararmati della Wehrmacht l'orrore del genocidio questa è la scienza questa può essere la scienza al servizio della potenza la ragione non è secondo Adorno e al Keimer la ragione è un falso mito che va ridimensionato non è lo strumento di emancipazione l'orizzonte di libertà e uguaglianza nel quale appunto credevano i pensatori moderni ma è un mezzo al servizio di alcuni uomini per il dominio su altri uomini e questo fa riferimento naturalmente non solo al mondo dei grandi totalitarismi ma anche al mondo capitalistico industriale che è una forma di totalitarismo ci insegnano Adorno e al Keimer a sua volta quindi anche oggi che siamo in un mondo di capitalismo liberalista trionfante sono tutt'altro che fugate la crisi l'infelicità la lacerazione e quindi come dire altro che magnifiche sorti e progressive come appunto ironizzava leopardi nella ginestra allora la tesi di Adorno e al Keimer in questo testo è che il rovesciamento dialettico del progetto illuministico nel suo contrario quindi una scienza che come dire non porta a una maggiore felicità ma casomai porta a una nuova barbarie appunto come dicono non è casuale questo processo non è né casuale né incidentale ed è nella logica dell'illuminismo stesso nell'idea di progresso quello che ci dicono Adorno e al Keimer è che qualunque progresso sul piano della conoscenza può in tali casi essere un regresso sul piano dell'esistenza e questo vale per tutte le operazioni diciamo così che il pensiero illuministico il pensiero in continuo progresso sembra realizzare prima parlavamo di manipolazioni genetiche ma naturalmente per quanto riguarda noi e per quello di cui siamo osservatori oggi tutti gli interventi diciamo così sulla materia i virus creati in laboratorio uomini contro androidi forme sempre più sofisticate di controllo delle nostre esistenze gli interventi sulla materia che spesso sono irreversibili come già avvertiva Anna Arendt in un saggio del 58 vita attiva la quale diceva che come dire le scienze della natura le tecnologie moderne che non si limitano più a osservare i processi naturali o semplicemente a imitarli ma che intervengono sui processi materiali possono come dire crea avere quegli interventi conseguenze che non è possibile preventivare e soprattutto dalle quali non è più possibile tornare indietro e quindi come dire il concetto di illuminismo che è quello diciamo così che apre un po' la lettura di questo testo poi viene esemplificato attraverso due excursus abbiamo detto quello dedicato al mito di Ulisse pagine memorabili anche queste molto lette molto commentate per cui Ulisse l'eroe omerico diventa incarnazione dell'uomo borghese sappiamo che Ulisse si fece legare all'agero maestro per sentire la voce meravigliosa delle sirene nelle quali erano delle creature nella mitologia greca delle creature mostruose col viso di donna e il corpo d'uccello e poi invece dal medioevo in avanti divennero ragazze bellissime con la coda di pesce ma erano delle creature mostruose con una voce meravigliosa le quali attiravano gli uomini con la loro voce e poi quegli uomini naturalmente venivano uccisi dalle sirene allora Ulisse curioso si fa legare all'albero maestro ascolta il canto delle sirene senza però avere la tentazione naturalmente di potersi avvicinare allo scoglio delle sirene e fa mettere i tappi di cera ai rematori in modo che loro neanche sentano il canto da tutto questo diciamo così ad Honor Keimer ricavano un'allegoria appunto Ulisse l'uomo borghese moderno il quale non si concede il piacere non si abbandona la bellezza perché chiuso diciamo così in una vita di assoluto pragmatismo e di produttività e addirittura i rematori sono invece l'incarnazione dell'operaio moderno possiamo anche leggere i rematori che non possono parlare fra di loro sono aggiogati tutti quanti allo stesso ritmo come l'operaio moderno al cinema alla fabbrica e nel collettivo cioè l'operaio moderno ha contingentato sia il tempo del divertimento che il tempo della produttività sono le concrete condizioni del lavoro nella società a produrre il conformismo e non influssi consapevoli che interverebbero in seguito a istupidire gli uomini oppressi e a sviarli dal vero l'impotenza dei lavoratori è la conseguenza logica della società industriale allora fatti i due excursus ad Honor Keimer introducono il tema dell'industria culturale che è la parte sulla quale ci soffermiamo oggi perché quello che molto lucidamente ad Honor Keimer mettono in rilievo è che quelle stesse logiche di oppressione asservimento condizionamento e conformismo come abbiamo appena letto che ineriscono e sono costitutive della società capitalistica contemporanea in realtà investono anche quel campo che sembrerebbe costituire l'antidoto a questo stato di cose vale a dire la cultura allora come dire c'è tutto un concetto di cultura che viene revisionato da Honor Keimer nell'idea che nella società capitalistica contemporanea anche la cultura il sapere l'arte la letteratura sono oggetti di consumo e merci che si offrono ai consumatori da parte di un'industria la cultura che è sempre stata il luogo della libera espressione del libero pensiero dell'originalità dell'anticonformismo appunto addirittura anche della protesta e delle versioni sappiamo che ci sono stati movimenti culturali che hanno profondamente cambiato la forma mentis dei contemporanei ebbene questo ambito di assoluta libertà e di assoluta libera espressione in realtà è semplicemente merce fra le altre merci e i prodotti culturali sono come tutti gli altri prodotti di massa o di largo consumo standardizzati omologati piegate alle logiche del mercato la cultura è oggetto di produzione da parte della società capitalistica nella sua fase avanzata come ogni altro sto leggendo prodotto industriale allora la critica di Adorno al Keimer si rivolge proprio a questo cioè il fatto che l'industria culturale ha prodotto un azzeramento degli spazi in cui è possibile una riflessione critica e un libero pensiero ed è una posizione credo che offra molti spunti di lettura anche del contemporaneo e che oggi casomai come dire mostra questo tipo di analisi ulteriormente la sorgenza proprio anche in virtù della maggiore capacità di penetrazione dei mezzi di informazione e di comunicazione cioè una pervasività informatica che può rendere quel condizionamento ancora più sensibile e ancora più potente allora direi che possiamo cominciare a leggere alcune pagine che abbiamo selezionato da questo testo per entrare nel vivo del dettato di Edotkeimer Adorno e anche sentire un po' la loro voce allora l'industria culturale ha come sottotitolo quando l'illuminismo diventa mistificazione di massa e l'inizio quindi illuminismo come mistificazione di massa e non il contrario come era appunto nel progetto degli illuministi la tesi sociologica questo è l'incipit del capitolo sull'industria culturale la tesi sociologica che la perdita del sostegno rappresentato dalla religione oggettiva la dissoluzione degli ultimi residui della società precapitalistica la crescente differenziazione tecnica e sociale e la tendenza allo specialismo abbiano dato luogo a un caos culturale è smentita ogni giorno dai fatti la civiltà attuale conferisce a tutti i suoi prodotti un'aria di somiglianza il film la radio e i settimanali costituiscono nel loro insieme un sistema ogni settore è ormonizzato al suo interno e tutti lo sono fra loro come dire noi potremmo pensare che con la specializzazione dei vari saperi siamo di fronte a una specie di caos culturale in realtà è esattamente il contrario ci stanno dicendo Adorno Keimer casomai il caos culturale può essere anche foriero di innovazioni di visione originale in realtà l'industria culturale è quella che determina quell'appiattimento dei prodotti culturali che sono esattamente il contrario appunto di uno stato culturale caotico tutti i generi culturali quindi artistici di comunicazione rispondono alle stesse logiche e nulla reca il segno dell'originalità o dell'allontanamento da un gusto consolidato e diffuso si tratti di film di radio o di televisioni i temi e anche il livello qualitativo più o meno sono omogenei addirittura si perde la distinzione diranno ad Ornior Keimer anche tra arte bassa e arte alta tra arte d'elite e arte per così dire popolare proprio perché l'industria culturale crea un sistema talmente organico dove tutto si sposa a tutto ed è una dinamica è un processo di cui noi stessi siamo testimoni oggi perché come dire non è raro il caso e ci sono state di mostre che in qualche modo quindi di eventi culturali che ammiccano o sono perfettamente consentanei a certe dinamiche a certi processi culturali che si giocano su altri piani per cui noi assistiamo a mostre che vengono organizzate per esporre il dipinto che è stato protagonista di un celebre film di cassetta che è stato a sua volta tratto da un celebre libro di cassetta e così via e quindi come dire c'è una organicità davvero dei vari settori culturali che portano a una omologazione naturalmente e a una standardizzazione dei prodotti allora questo fa sì che lo stesso concetto di arte in qualche modo vada ridimensionato il concetto di dignità artistica e culturale che l'industria culturale addirittura trasforma in un vecchio mito obsoleto che in qualche modo va superato è che come dire chiunque inneggi alla qualità della cultura tradizionale della cultura quando era davvero libertà eversione e fanno credo prolungare questo periodo fino alla fine dell'ottocento ad Orkheimer ma quel tipo di arte viene vista come una forma di snobismo intellettuale di elitarismo intellettuale mentre invece l'industria culturale si fregge del fatto di essere fortemente democratica di produrre di dare vita a prodotti che sono fruibili dal maggior numero di persone possibili quindi non un'arte elitaria ma un'arte di cui il maggior numero di persone può beneficiare arte industria come dire poteri economici i film e la radio scrivono ad Orkheimer non hanno più bisogno di spacciarsi per arte la verità che non sono altro che affari serve loro da ideologia che dovrebbe legittimare le porcherie che producono deliberatamente si autodefiniscono industrie e rendendo note le cifre dei redditi dei loro direttori generali soffocano ogni dubbio possibile circa la necessità sociale dei loro prodotti come dire è vero che anche noi possiamo guardare programmi televisivi dei quali diciamo guarda quel programma televisivo offende l'intelligenza dello spettatore ma qual è l'alibi dell'industria culturale adesso noi stiamo facendo un esempio naturalmente che può estendersi anche a campi più ampi di questo però l'alibi è il successo che ha quel tipo di prodotti nel momento in cui appunto i direttori generali mostrano le cifre di successo di certe operazioni culturali che i puristi della cultura potrebbero giudicare infime ma che hanno un largo riscontro di pubblico quindi come dire incontrano il gusto delle masse questo giustifica la necessità sociale come dicono a Donner-Keymer dei loro prodotti stiamo producendo spazzatura ma questa spazzatura come dire è quella che il pubblico vuole in qualche modo e quindi come dire c'è veramente una forma subdola di condizionamento che come dire viene perpetuata proprio dal riscontro che certi prodotti ahimè pure hanno presso una larga parte del pubblico dei consumatori ovviamente in questa in questo processo i prodotti allora quello che si dice sempre è che ovvio se noi ci rivolgiamo a un pubblico elitario i prodotti devono avere una certa qualità nel momento in cui ci rivolgiamo al largo pubblico è ovvio che dobbiamo cercare di incontrare quanto più possibile il gusto di quel pubblico e ovviamente in un'ampia porzione di spettatori c'è come dire chi ha un gusto più sofisticato chi ha un gusto più medocre chi ha un gusto infimo i prodotti dell'industria culturale la cultura di massa deve raggiungere però tutti quindi non può come dire proporre prodotti eccessivamente complicati ma prodotti eccessivamente straordinariamente semplificati proprio per dare come dire la possibilità a tutti di poter fruire di quella proposta culturale e la differenza quindi fra prodotti arte sofisticata arte bassa in realtà è inesistente tutti i prodotti si somigliano tutti i prodotti sono facilmente consumabili e fruibili tutti i prodotti dell'industria culturale e la differenziazione è come dire è solo formale è solo quantitativa non qualitativa è un passaggio all'interno di questo testo molto interessante dove Adonio Keimer evidenziano come alla fine scrivono i prodotti differenziati meccanicamente fra di loro si rivelano sempre identici che la differenza tra la serie dei tipi della Chrysler e quella della General Motors sia in definitiva illusoria lo sanno anche i bambini che vanno pazzi per queste cose i pregi e gli svantaggi discussi dai conoscitori servono solo ad eternare una parvenza di una concorrenza e di una possibilità di scelta le cose non vanno diversamente per quanto riguarda le produzioni della Warner Brothers o della Metro Goldwyn Mayer ma anche fra i tipi più cari e meno cari della collezione di modelli della stessa ditta e le differenze tendono a ridursi sempre di più nelle automobili a differenza nella cilindrata nello spazio interno nelle date in cui sono stati brevettati i vari gadgets nei film a differenza nel numero dei divi nello sfoggio di mezzi tecnici mano d'opera costumi decorazioni la misura unitaria del valore consiste nella dose di conspicuous production di investimento messo in mostra le differenze di valore preventivate dall'industria culturale non hanno nulla a che fare con differenze oggettive col significato intrinseco dei prodotti quindi come dire i prodotti dell'industria culturale la cultura di cui noi siamo testimoni in realtà non ha grosse differenze sostanziali la grossa differenza sostanziale sta nella forza con cui vengono prodotte certe operazioni culturali con cui vengono comunicate con cui vengono pubblicizzate come dire gran parte della filmografia contemporanea affronta più o meno gli stessi temi sono temi come dire facilmente fruibili da un largo pubblico quello che fa la differenza è il tipo di investimenti nella produzione di quelle operazioni culturali e quindi l'alibi dell'industria culturale per come dire rimuovere il concetto di arte così come era tradizionalmente intesa è proprio che una come dire una proposta culturale facile che in qualche modo sia acquiescente al gusto consolidato diffuso e alle conoscenze di un largo pubblico offre una possibilità come dire di fruizione molto più ampia quindi come dire è una finta democratizzazione culturale quella che è stata avviata dall'industria culturale con la scusa di rendere il pubblico un pubblico quanto più ampio possibile beneficiario di certi prodotti culturali giustifica il fatto che quei prodotti culturali lungi dallo stimolare l'intelligenza dello spettatore invece in qualche modo siano acquiescenti con le conoscenze quindi come dire non producano uno sviluppo nel gusto nelle problematiche diciamo così che possono volta a volta affrontarsi nel pubblico ma semplicemente si adegua a uno stato di cose già esistenti e soprattutto la cosa che adorne o camion mettono in rilievo è che se l'industria culturale sembra come dire detenere il governo dei prodotti culturali di cui noi disponiamo di cui dispone diciamo così la società di massa a sua volta l'industria culturale invece è prona ai dettami e ai voleri di altri poteri che sono i poteri ovviamente economici quindi se la tendenza sociale oggettiva dell'era in cui viviamo si incarna nelle tenebrose intenzioni soggettive dei direttori generali si tratta in origine e in prima istanza di quelli dei settori più potenti dell'industria acciaio petrolio elettricità e chimica sono questi i poteri alla base della preposta culturale dei nostri tempi i monopoli culturali rispetto a questi sono nei loro confronti deboli e impotenti allora come dire se i grandi poteri economici come dire governano orientano e in qualche modo controllano l'industria culturale la quale a sua volta controlla i prodotti culturali è ovvio che i prodotti devono avere un effetto economico di ritorno per questo la produzione dell'arte di massa facilmente fruibile arte che contraviene un po' e che è un'arte appunto omologata standardizzata facile e non complessa stratificata stimolante e così via lo stesso concetto di cultura in Adorno Kramer viene considerato come bisognoso di una rivisitazione di una riconsiderazione perché noi inneggiamo la cultura si inneggia alla cultura come lo strumento la cultura rende liberi no? questo è un famoso slogan in qualche modo ma Adorno Kramer si chiedono è vero cosa intendiamo quando parliamo di cultura e il passaggio è piuttosto interessante perché davvero offre strumenti di interpretazione molto attuali tutto sommato la barbarie estetica attuale dicono Adorno Kramer realizza effettivamente la minaccia che incombe sulle creazioni spirituali fin dal giorno in cui sono state raccolte e neutralizzate come cultura parlare di cultura è sempre stato contro la cultura il denominatore comune cultura contiene già virtualmente la presa di possesso l'incasellamento la classificazione che assume la cultura nel regno dell'amministrazione solo la sussunzione industrializzata radicale e conseguente è pienamente adeguata a questo concetto di cultura subordinando allo stesso modo tutti i rami della produzione intellettuale all'unico scopo di otturare i sensi degli uomini essa l'industria culturale realizza sarcasticamente l'idea della cultura organica che i filosofi della personalità opponevano alla massificazione quindi quella stessa cultura organica si rimprovera ai contemporanei una mancanza di stile organico bene quella stessa cultura organica che doveva servire a liberare e a rendere consapevoli gli individui criticamente consapevoli della situazione diciamo così in cui stavano vivendo diventa invece strumento diventa il suo contrario anche in questo caso diventa strumento di massificazione e di omologazione inconsapevole e per l'industria culturale in questi termini esattamente come per l'industria commerciale in generale l'individuo diventa un puro dato statistico diventa un tipo non appunto un soggetto un individuo un target commerciale e in questo l'industria culturale qui davvero mostra davvero tutta la sua potenza e mostra la capacità di dare a tutti ciò che chiedono qui davvero sciencia propter potentiam però di una potenza di un certo tipo che è la potenza appunto di questo tipo di organizzazione culturale anche questa è una pagina credo molto interessante perché in qualche modo descrive la nostra parte come consumatori da una parte quindi c'è la descrizione delle logiche delle dinamiche che presiedono all'industria culturale dall'altro noi che parte abbiamo in tutto questo cosa siamo noi all'interno di questo sistema allora Adorno-Kheimer scrivono le distinzioni enfaticamente ribadite come quelle tra film di tipo A o B o quella distinzione fra i racconti pubblicati in settimanali di diverse categorie di prezzo più che essere fondate sulla realtà e derivare da essa servono a classificare e organizzare i consumatori e a tenerli più saldamente in pugno per tutti è previsto qualcosa perché nessuno possa sfuggire le differenze vengono inculcate e diffuse artificialmente ognuno è tenuto a comportarsi in modo per così dire spontaneo secondo il level che gli è stato assegnato in anticipo sulla base degli indici statistici e a rivolgersi alla categoria di prodotti di massa che è stata fabbricata appositamente per il suo tipo ridotti a materiale statistico i consumatori vengono suddivisi sulle carte geografiche degli uffici per le ricerche di mercato che non si distinguono praticamente più da quelli di propaganda vengono distinti in gruppi di reddito in caselle verdi rosse e azzurre ovvio come dire l'industria commerciale ha fatto questo cioè ha dato ha creato prodotti precisamente confezionati sul target cui si rivolgevano in modo da assicurare la vendita e come dire dare ad ognuno esattamente il tipo di prodotto che gli è consentito diciamo così o che è portato in qualche modo a scegliere faccio un esempio qualunque casa automobilistica crea una serie di modelli che vanno dalla macchina poco costosa dall'auto poco costosa giovanile magari per le fasce di popolazioni più giovane che magari hanno redditi o ancora magari non hanno reddito macchine diciamo così per chi si deve muovere in città la macchina più sportiva e disinvolta per il professionista la macchina invece più come dire autorevole per chi svolge un certo tipo di mansioni c'è come dire la fuori serie e così via lo stesso vale per qualunque tipo di prodotto dai cellulari agli abiti diciamo le case di moda hanno abiti a poco prezzo una linea per i più giovani diciamo quelli invece più eleganti l'alta moda l'altissima moda e così via proprio perché come dire si opera una classificazione del pubblico e si crea il prodotto che può incontrare la scelta di quella particolare categoria di popolazione o classe di acquirenti e la cosa su cui Adorno richiamano l'attenzione è il fatto che noi quando andiamo a scegliere un prodotto abbiamo l'impressione di scegliere in realtà come dire quel prodotto è stato preconfezionato per orientare la nostra scelta se siamo un certo tipo di persona abbiamo un certo reddito svolgiamo una certa attività quasi sicuramente all'interno di una certa gamma di offerte noi ci rivolgeremo a quel prodotto che è stato preconfezionato preconfezionato per incontrare il gusto e come dire la scelta del nostro tipo come dicono appunto Adorno Camer qui è anche in questo caso davvero la scienza per la potenza solo che è appunto in questo senso che l'illuminismo non è come dire liberazione ma mistificazione di massa perché si dà al pubblico l'impressione di una scelta che in realtà è orientata e condizionata a priori in un certo senso e quindi e questo noi stiamo parlando poi di prodotti commerciali ma questo con facile traslazione possiamo riferirlo anche al mondo intellettuale e come dire ai prodotti intellettuali scienza propria potenzia ma come dire davvero un controllo e un'organizzazione che controlla tutti gli aspetti della propria industria e lo fa con una tale coerenza diciamo così e con una organizzazione così puntuale che non ha precedenti dicono ad Orneor Kamer il capitalismo ha introdotto una forma di controllo sui prodotti culturali che neanche come dire la censura il capitolo di altre epoche esercitavano con tale ferrea rigorosità scrivono nessun costruttore delle chiese del medioevo avrebbe passato in rassegna i soggetti delle vetrate e delle sculture con la diffidenza con cui la gerarchia degli studi cinematografici esamina un soggetto di Balzac o di Victor Hugo prima che questo ottenga l'imprimato di ciò che può andare quindi addirittura i grandi capolavori della letteratura l'industria cinematografica esercita un controllo e dice questo va bene questo no e quindi come dire da un imprimatur che però è frutto di un vaglio severissimo diciamo così e molto orientato ovviamente all'effetto di ritorno economico che quella produzione può ottenere nessun capitolo avrebbe assegnato ai ceffi diabolici e alle pene dei dannati il loro giusto posto nell'ordine del sommo amore con lo scrupolo con cui la direzione della produzione lo assegna alla tortura dell'eroe o alla gonna succinta della leading lady nella litania del film di successo il catalogo esplicito ed implicito esoterico ed esoterico del proibito del tollerato è talmente ampio e dettagliato che non si limita a circoscrivere un settore libero ma lo domina e lo controlla da cima a fondo quindi se pensiamo chiunque pensi che la barbarie estetica attuale come la chiamano Donner-Keymer dipenda da un mancato controllo sui suoi prodotti si sbaglia perché i prodotti dell'industria culturale sono estremamente controllati anche se ovviamente i criteri per i quali i prodotti vengono approvati e proposti alla fruizione del pubblico e quindi vengono proposti come cultura rispondono ad etami ben diversi da quelli che orientavano la critica tradizionale e c'è un aspetto ancora ulteriore naturalmente perché abbiamo parlato fin qui appunto di industria culturale di controllo addirittura di come dire grandi potentati economici che controllano l'industria culturale che controlla il gusto del pubblico e anche le scelte del pubblico in tutto questo che parte all'artista allora l'artista che si muove all'interno dell'industria culturale che quale è principio esattamente incarna perché ovviamente il principio di libertà e di libera espressione sembra essere negato dal controllo rigorosissimo che viene esercitato dall'industria culturale allora a Donner Kramer in questo davvero ci mettono sull'avviso nel fatto che spesso la mistificazione di massa consiste anche nel produrre o nel proporre diciamo così avanzare proposte culturali che sembrano controcorrente che sembrano trasgressive che sembrano ribelli al sistema ma che in realtà nel momento stesso in cui noi siamo testimoni e siamo spettatori di quel evento controculturale diciamo o la voce del ribelle si fa sentire è perché quel ribelle è già all'interno si muove all'interno dell'industria culturale ha già come dire accettato di è venuto a patti con l'industria culturale e questa gli dà la possibilità all'artista di alzare la sua voce fintamente controculturale all'interno però di un patto consolidato che si stipula tra l'industria culturale e l'artista per cui l'artista ribelle nel momento in cui fa vendere può tranquillamente come dire esporre la sua ribellione e esprimere la propria ribellione ma è una finta ribellione perché ripeto se è in televisione a gridare la sua rabbia contro il sistema è perché il sistema l'ha messo lì e ha già visto l'affare in questo artista una volta e ci avviamo alla conclusione una volta registrato nella sua differenza dall'apparato dell'industria culturale l'artista fa già parte di essa come riformatore agrario del capitalismo la rivolta di chi tiene conto della realtà e sa adeguarsi ad essa diventa l'etichetta di chi ha una nuova idea da suggerire all'industria la sfera pubblica della società attuale non lascia diventare percepibile alcuna accusa nel cui timbro le persone fine d'orecchio non siano in grado di riconoscere il potente all'insegna e sotto la protezione del quale il protagonista della rivolta è disposto a riconciliarsi con loro quanto più abissale diventa il distacco tra il coro e il vertice è più certo che su quest'ultimo ci sarà posto per chiunque sappia manifestare la propria superiorità con un'originalità sapientemente organizzata così anche nell'industria culturale sopravvive la tendenza del liberalismo a lasciare via libera alle persone capaci che accettano i principi del sistema come dire se uno fosse davvero un ribello al sistema non sapremmo la sua esistenza nel momento in cui noi sappiamo di un artista che è ribelle è perché esprime la sua ribellione però all'interno di un contesto che è quello stabilito dall'industria culturale quindi come dire questo testo è molto interessante spero che questa lettura sia anche una promessa di lettura e all'approfondimento di questo volume che naturalmente offre molte più suggestioni di quelle che abbiamo potuto presentare nel breve spazio a nostra disposizione però davvero un testo che invita a tenere alta l'attenzione critica alla prendere consapevolezza del mondo in cui viviamo delle logiche nascoste che lo governano e lo muovono ed è ovvio che poi come dire tutta questa analisi non ci consentirà di vivere al di fuori del nostro tempo però come dire un conto è essere consapevoli del gioco che stiamo giocando del gioco entro il quale ci stiamo muovendo un conto invece è essere vittime inconsapevoli del divertimento di qualcun altro appunto allora chiudo davvero questo incontro con l'ultimo lacerto diciamo così di questo testo che voglio lasciare come riflessione conclusiva a questo incontro e dove in qualche modo un po' si riassume il senso dell'analisi sul contemporaneo svolta da questo testo di Orkheimer Adorno la dedica dell'illuminismo ratificando furbescamente la richiesta di prodotti dozzinali l'industria culturale inaugura l'armonia totale giudizio critico e competenza specifica sono messi al bando e bollati come la presunzione di chi si crede superiore agli altri mentre la cultura che è così democratica ripartisce equamente i suoi privilegi fra tutti di fronte alla tregua ideologica che si è instaurata il conformismo dei consumatori come l'impudenza della produzione che essi tengono in vita acquistano per così dire una buona coscienza e si accontenta della riproduzione del sempre uguale allora c'è stato un movimento perché per verificare se sono arrivate domande sì grazie Andrea dell'esposizione che naturalmente ha colto i punti importanti di questo testo che come tu dicevi ne offre moltissimi ma che chiaramente per il tempo che ci siamo scelti e per il tipo di comunicazione vuole essere semplicemente uno stimolo a una lettura e a cogliere quelli che sono i semi fondamentali di questo di questo testo allora io ti pongo già alcune domande che sono comparse nella chat te le leggo è una domanda di Anna Benatti che dice Elias Canetti Marcuse il situazionismo di Debor mie letture e interessi giovanili senza che io avessi una base di studi filosofici discendano per i rami da queste analisi punto di domanda e l'errore di traduzione di cui ha fatto accenno all'inizio qual è queste sono le due domande che ti pongo certo sì sì assolutamente sì diciamo hanno davvero con Adorno e Orkheimer l'indagine filosofica diventa un'indagine sul contemporaneo diciamo così sulla realtà diventa uno strumento di interpretazione della realtà soprattutto come dire di una realtà particolare come quella e lo abbiamo detto ampiamente nella presentazione del testo di cui furono osservatori naturalmente Adorno e Orkheimer per cui Marcuse senza dubbio perché Marcuse scusa è un francofortese diciamo e Marcuse tra l'altro è l'intellettuale francofortese che non rientrò in Europa rimase negli Stati Uniti dove divenne come dire un leader d'opinione un intellettuale di riferimento per tutti i movimenti e le rivoluzioni studentesche intorno diciamo così al 68 il suo testo l'uomo ha una dimensione la monodimensionalità di cui parla Marcuse affonda le radici ed è come dire corollaria alle ricerche che anche Adorno e Orkheimer avevano svolto naturalmente quanto al situazionismo naturalmente De Boer la società dello spettacolo ovvio c'è il recupero diciamo così di un'arte in qualche modo libera liberata che si svolge al di fuori dell'industria culturale e di tutti gli apparati che in qualche modo sembrano controllare le produzioni non solo artistiche ma proprio culturali in generale quanto alla storia dei castelli di Yale raccontala pure tu Paola così no 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 vai vai no semplicemente allora c'era questa all'interno della traduzione il nostro collega Marco Bertozzi ha fatto un bel articolo che si può leggere sul sito della nostra rivista appunto i castelli di Yale una tradizione si parla di Yale Schlosser e Schlosser si può tradurre in tedesco sia come castelli e come serrature e a Donnokame parlavano di differenze millimetriche che sono simili alle differenze che si registrano nelle serrature Yale che sono quelle delle chiavi e invece si legge appunto di differenze millimetriche fra i castelli di Yale e questo era un errore diciamo così che compariva all'interno della dedica dell'illuminismo che è parso potesse essere un titolo interessante per la nostra rivista filosofica ed è ripeto un errore che è stato emendato nel 97 e il primo numero della rivista i castelli di Yale è uscito nel 96 per cui non so se siamo stati responsabili se i fondatori io non c'ero ancora penso di sì della correzione c'è un'altra osservazione che ti vorrei fare ed è chiaro che chiaramente Adorno è stato così importante dal punto di vista della critica della cultura e della cultura di massa però c'è anche tutto l'aspetto della musica di Adorno che altrettanto va di pari passo con la sua discorso come combinano le entrambi allora ovviamente quello è un altro ambito combinano in questo senso però che tutto sommato quello che Adorno auspica nella sua estetica musicale è come dire allora lo dicevo già prima per spiegare molto sinteticamente perché in realtà la cosa è piuttosto complessa però è ovvio c'è un brano anche all'interno dell'etica dell'ulminismo in cui dice noi oggi ascoltiamo canzoni di cui le prime note già ci fanno capire come andrà avanti per cui noi possiamo fischiettare il motivo prima ancora di averlo sentito perché c'è un'ovvietà di riproduzione l'industria culturale fa questo da prodotti facili che tutti possono tranquillamente fruire è un'industria che produce cultura di amusement lo chiamano Donner Keimer cioè di intrattenimento di divertimento d'altronde dicono cosa dice l'industria culturale dice questi signori sono alla catena di montaggio tutto il giorno alla sera non hanno voglia di leggere l'ulisse di Joyce o leggere i drammi di Beckett vogliono vedere i film di Charlie Chaplin perché si divertono perché sono facili i prodotti dell'industria culturale poi oggi Charlie Chaplin naturalmente è un prodotto culturale a tutti gli effetti per Donner Keimer era una generazione della cultura e dell'arte vera la sua estetica musicale in campo musicale opera assolutamente la stessa distinzione per cui opta per una musica che sia complessa in qualche modo che la cultura ed è vero è qualcosa che possiamo sottoscrivere vale a dire noi progrediamo in termini di consapevolezza in termini anche di gusto quando superiamo delle difficoltà quando una cosa non la capiamo dopo la capiamo quella è un'acquisizione se noi come dire siamo di fronte a un prodotto che capiamo immediatamente non c'è nessun progresso il progresso avviene nel momento in cui tu come dire acquisisci conoscenze informazioni modi di vedere c'è un allargamento di coscienza invece che appiattimento della coscienza come dicono a Donner-Keymer la cultura dovrebbe fare questo dovrebbe essere uno dovrebbe essere complessa proprio per come dire stimolare l'esercizio dell'intelligenza non dovrebbe dare prodotti facili che addormentano l'intelligenza che è come dire un po' il carattere che hanno i prodotti culturali d'altronde lo sappiamo se noi guardiamo le classifiche dei best seller letterari ad esempio spesso vediamo cose che diciamo guarda di questo libro non si parlerà mai più probabilmente fra un paio d'anni eppure sono in testa le classifiche perché l'industria culturale fa questo crea il caso poi come dicono a Donner-Keymer tutto il sistema organico per cui l'autore va in televisione se ne parla al cinema se ne parla sui settimanali per cui davvero l'organizzazione e il controllo dell'industria culturale vorrei aggiungere a proposito di questo una piccola osservazione nel senso che loro hanno individuato questa facilità della cultura rivolta a tutti come una sorta di addormentamento verso il quale va la società e soprattutto di facilitare una sorta di tempo libero che viene utilizzato anche in senso produttivo cioè il tempo libero dell'operario il tempo libero o comunque del normale cittadino è questo ma il passo ulteriore è quello che oggi noi non abbiamo addirittura l'orientamento da parte dell'industria culturale ma abbiamo addirittura l'anticipazione attraverso l'utilizzo di tutti i dati che le grandi i big data che sono stati manipolati dalle multinazionali internazionali hanno delle nostre scelte quindi siamo ulteriormente andati avanti rispetto a questa idea che essi a Orcarme e a Adorno avevano dell'assoggettamento del consumatore qui addirittura hai strappato addirittura il consumatore la scelta cioè non c'hai neanche più la scelta perché tu sei già in un qualche modo addomesticato nei tuoi gusti e nel tuo desiderio qui ancora prima che tu lo formuli te lo trovi già presentato davanti nello smartphone o davanti negli strumenti tecnologici ma la mia domanda che mi rimane è dire nessuna speranza o qual è il passo ulteriore verso la cattura quindi no l'artista no la cultura solo completa in realtà come dire ecco sì 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 per quanto riguarda l'artista in realtà ci sono forme il web consente forme di produzioni indipendenti che spesso sono le più interessanti di fatto quindi come dire ci sono anche artisti che si muovono di fuori dei grandi circuiti e lo stesso hanno una loro visibilità naturalmente quindi quella fuga è possibile ripeto io non so se c'è una soluzione questa è una domanda che ci facciamo spesso non leggiamo questa cosa diciamo va bene e ora come dire sappiamo di e poi tu hai ragione e infatti l'ho accennato brevemente però la pervasività informatica è un'ulteriore naturalmente forma di controllo dei gusti delle scelte e così via quindi questo senza dubbio però la cosa davvero che era un po' anche la mia conclusione è vero il gioco è questo noi lo sappiamo e forse non abbiamo modo di sottrarci però un conto è essere come dire perfettamente consapevoli di dove si è e che parte si gioca con tutte le cautele che si possono prendere al riguardo naturalmente poi è ovvio che non possiamo sfuggire al controllo sistematico questo no perché ci sono telecamere ovunque i nostri movimenti sulla rete vengono controllati questo senza dubbio e questo però come dire è sì è quel golem tecnologico appunto di cui si parla anche nella letteratura filosofica e che loro sotto l'addizione di illuminismo però in qualche modo avevano assolutamente colto e descritto in maniera efficacissima c'è molto di più di quello che noi stiamo leggendo naturalmente c'è tutta una parte anche sul appunto sul tempo libero l'organizzazione del tempo libero di come anche questo venga in qualche modo sia frutto di ma insomma il messaggio forte però è questo è come dire questa è una cosa che dico spesso in realtà l'ampiezza della scelta non è un segno di libertà spesso è il suo contrario allora la direttica dell'illuminismo davvero ci fa vedere l'altra faccia e ci abitua a pensare in termini di come dire contraddizioni nascoste perché ripeto un'ampia scelta non è per renderci liberi di scegliere fra un prodotto e l'altro ma è per renderci schiavi di quel prodotto allora come dire se e lo dico sempre se la televisione ci offre cento programmi televisivi diversi non è per renderci liberi di scegliere il programma che ci piace di più ma è per renderci schiavi della televisione quindi come dire la dialettica dell'illuminismo la dialettica negativa le contraddizioni dell'illuminismo sono queste che sono subdole sono nascoste ma questa lettura credo davvero che consente io credo che questo sia un libro che dopo che uno l'ha letto non è più quello di prima vale a dire acquisisce davvero una consapevolezza che forse prima o come dire comincia a guardare le cose con occhi diversi a considerarle secondo aspetti che magari prima non erano così presenti diciamo così o così sensibili anche all'interno della sua riflessione quindi un discorso di smascheramento assolutamente sì sarei per concludere naturalmente dando appuntamento a coloro che hanno seguito la lezione di oggi se avranno voglia di seguire anche la terza puntata del nostro ciclo che si svolgerà lunedì 19 aprile e con la relazione di Gaetano Sateriale su un testo pubblicato nel 1919 di Maynard Keynes le conseguenze economiche della pace io ringrazio tutti coloro che hanno seguito e spero di ritrovarvi la prossima settimana arrivederci arrivederci